L'abbandono scolastico prima del conseguimento di un diploma di quinta superiore è un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani che preferiscono trovare un lavoro piuttosto che continuare gli studi. Per questo Città Studi e Biella si è posto l'obiettivo di eliminare questo fenomeno attraverso attività rivolte ai giovani. Il progetto Operatore Informatico è uno di questi e consiste in una serie di corse rivolte ai giovani dai 15 ai 24 anni che hanno completato il primo ciclo di istruzione e frequentano almeno un secondo anno del secondo ciclo con una spiccata passione per la tecnologia e il desiderio di acquisire competenze pratiche immediatamente applicabili nel mondo professionale. Il progetto tratterà con un approccio teorico pratico tanti argomenti che forniranno una formazione a 360 gradi sul mondo dell'informatica. L'Istituto Tecnico Industriale Quintino Sella e l'Istituto Eugenio Bona si sono già espressi a favore del progetto. Al termine del percorso di studi nel settore informatico i ragazzi avranno la possibilità di entrare facilmente nel mondo del lavoro grazie alle competenze acquisite, sostiene Tiziano Badà, dirigente scolastico dell'Istituto Quintino Sella. Tuttavia, coloro che desiderano proseguire gli studi e ottenere un diploma di maturità non saranno esclusi da questa opportunità. E così l'Istituto offre un programma flessibile che permette agli studenti di conciliare lavoro e studio, fornendo un'educazione di qualità che risponde alle esigenze dei professionisti del settore. Il corso di operatori informatico rappresenta un'opportunità di successo formativo per gli studenti e le studentesse che per diverse ragioni hanno incontrato difficoltà nel loro percorso scolastico, aggiunge Raffaella Miori, dirigente scolastico dell'Istituto Eugenio Bona e Biello. Ma hanno mantenuto vivo l'interesse per queste materie e questo settore. Nell'ottica di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, che purtroppo ha un'incidenza non trascurabile anche nel nostro territorio, garantisce una formazione utile per l'ingresso nel mondo del lavoro, in cui figure professionali con adeguate competenze di tipo informatico e digitale sono sempre più richieste.